Se avete bisogno di un computer per lavorare magari da mettere nel vostro ufficio oppure nello studio di casa però avete un budget un po' ristretto non correte nel primo negozio di elettronica a comprare uno di quei cassoni preassemblati ma ascoltate i consigli all'interno di questa videoguida dove vi suggerirò pochi semplici pezzi per costruirsi in casa un computer, uso ufficio quindi uso office per gli applicativi più leggeri e per la navigazione web che potrebbe anche essere eventualmente espanso in futuro acquistando una scheda video o altri componenti. Con circa 350 euro è possibile portarsi a casa una macchina con un processore Kaby Lake, con un SSD e soprattutto pensata anche per essere aggiornata in futuro semplicemente spendendo qualche euro e mettendo altri componenti. Scoprite subito all'interno di questa videoguida i pezzi che sto per suggerirvi prima di cominciare come sempre iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e soprattutto lasciate un like a questo video per altre videoguide sull'assemblaggio. Si potrebbe pensare che con 350 euro si porti a casa un troiaio come si dice qui a Firenze ma in realtà con 350 euro si riescono a tirare fuori dei componenti molto interessanti che permettono di costruire una macchina che per l'uso office e per la navigazione web è più veramente che sufficiente. Cominciamo subito dal pezzo più esterno che però in questo caso ne nasconde due di componenti cioè il case. Risparmiando un pochino è possibile prendere un case carino molto semplice molto basico anche nell'aspetto estetico che però include l'alimentatore da 500 watt che è un componente fondamentale che andrebbe eventualmente acquistato a parte. Con circa 45 euro possiamo portare a casa questo case di Cheat che è un case midi quindi dimensioni non particolarmente ingombranti con alimentatore incluso. Se si spendesse 70 euro circa potremmo magari scegliere un case di nostro gradimento più un altro alimentatore di nostro gradimento. Valutate voi se avete un budget meno ristretto se eventualmente fare questa scelta di componenti e puntare ad esempio su un alimentatore da 400-450 watt ad esempio di Corsair. La scheda madre è un componente fondamentale di questo computer e di qualsiasi computer. MSI B250M è il componente che io vado a suggerirvi perché supporta i processori di sesta e settima generazione quindi Kaby Lake come quello che inseriremo all'interno della nostra macchina. Supporta le DDR4, ha uno slot PCI Express 16 per le schede video che eventualmente possiamo andare ad aggiungere. E quindi permette di fare un computer adatto agli standard attuali senza però dover tirare fuori troppi euro dal portafoglio. Costa meno di 70 euro e secondo me per la cifra che costa è un'ottima scheda madre MSI è un brand estremamente affidabile quindi ve la consiglio caldamente. Passiamo però al pezzo forte di questa build, il processore. Kaby Lake come vi dicevo non serve spendere centinaia di euro per avere un buon processore da mettere all'interno del proprio computer. Con 60 euro si porta a casa il G4560, è un Pentium non un Intel Core che però ha una particolarità rispetto ai Pentium degli scorsi anni, infatti ha due core fisici e quattro thread virtuali. Questo significa che per le operazioni di multitasking e che sfruttano ovviamente più core del processore, questa CPU se la cava molto meglio rispetto ai modelli fratelli degli scorsi anni. Questo processore peraltro ha una frequenza di 3,5 GHz quindi se la cava bene sia in single core che in multicore come prestazioni e io ve lo consiglio perché se poi doveste decidere di abbinare una scheda video non particolarmente costosa sotto 150 euro vi assicuro che riuscirete anche a tirare fuori delle prestazioni da gaming non indifferenti e vi potrebbe sorprendere le sue appunto prestazioni. Un componente dove non voglio risparmiare è la memoria RAM, in queste build da 350-400 euro spesso vengono consigliati 4 GB di RAM per risparmiare qualcosa, io preferisco spendere un pochino di più e avere però 8 GB di memoria RAM DDR4 che secondo me sono il minimo indispensabile di questi tempi per utilizzare una macchina Windows senza cali prestazionali. Devo dire che le RAM in questo periodo sono particolarmente costose, servono circa 75 euro per portarsi a casa questi due banchi ma sfruttando il dual channel avranno una prestazione migliore rispetto a un singolo banco e soprattutto ancora una volta possiamo andare eventualmente a fare un upgrade in futuro e aggiungere più RAM ma 8 GB sono più che sufficienti per qualsiasi tipo di applicativo office e soprattutto per i browser che ultimamente sono particolarmente affamati di RAM. L'altro componente su cui non voglio andare a risparmiare è la memoria di massa, ancora una volta alcune build vi consiglierebbero un hard disk meccanico, sì magari da 1 TB a 50 euro, siete liberi di fare quella scelta se lo desiderate, io preferisco personalmente puntare su un SSD con minore capienza però con maggiore velocità. Il Crucial MX300 è un SSD da 275 GB, si collega ovviamente alla porta SATA 3 del computer, ha una velocità di scrittura e lettura decisamente superiore a qualsiasi hard disk meccanico e io vado a guardare un po' quello che è l'utilizzo office delle persone che conosco, spesso hanno Word, Excel, PowerPoint, il browser e poco altro e non si accorgono nemmeno che hanno tantissimo spazio libero all'interno del computer che potrebbe essere sfruttato e in realtà non viene appunto messo all'uso. Con 275 GB secondo me qualsiasi utente se la dovrebbe cavare per avere un buon spazio libero per fare qualsiasi tipo di operazione, ancora una volta siamo liberi poi in futuro di poter aggiungere o un secondo SSD oppure un hard disk tradizionale meccanico, 50 euro ripeto ancora una volta si acquista un TB di SSD non è poco e quindi riusciamo tranquillamente ad aumentare la capacità del nostro computer. Con circa 350 euro e questi sei componenti possiamo veramente sbizzarrirci, avere una macchina che per qualsiasi applicativo se la cava egregiamente riuscirete anche a fare delle operazioni un po' più pesanti, del fotoritocco, delle gestioni di immagini ovviamente con qualche compromesso prestazionale ma vi assicuro che il G4560 è un processore che non delude e anche messo sotto torchio nel gaming se la cava più che bene con qualsiasi titolo anche recente. Ovviamente in questa build non è compreso il costo del sistema operativo Windows 10 perché molto spesso si riescono a trovare delle licenze a basso costo, si riesce a fare il trasferimento di licenze da un vecchio computer, insomma ci sono tante maniere per ottenere il sistema operativo. Nel caso decidiate di volere una versione gratuita di un OS vi ricordo che esiste ancora Linux che ha oggettivamente un supporto molto grande da parte di una grossa fetta di utenti e quindi potete puntare anche su quel sistema operativo se volete qualcosa di gratuito, sicuro, veloce e con tutte le applicazioni utili per un utilizzo Office. Fatemi sapere nei commenti qua sotto se avete suggerimenti e consigli per una prossima guida, un saluto al prossimo video per RedBall.com, Andrea Ricci.